Oggi parliamo di M-Shape, tecnologia di body sculpting firmata Novavision che allena un corpo in tutela relax. Abbiamo parlato di un body sculpting personalizzato perché M-Shape ci dà la possibilità di scegliere il programma in accordo con il livello di fitness, obiettivo dell'utente e forma fisica e soprattutto di scegliere programmi diversi per ogni area di trattamento. Il programma intro è atto a trattare persone con uno scarso tono muscolare che non sono abituate ad allenarsi. Il programma Dyna è destinato a chi ha un buon discreto tono muscolare ma non è allenato. Il programma tight è destinato a chi ha un buon tono muscolare finalizzato alla definizione alla resistenza del muscolo e infine l'ultimo programma è destinato a chi ha un ottimo tono muscolare ma è un agonista o un soggetto che è già comunque abituata ad allenarsi in modo intenso ma ha necessità di migliorare la performance di uno specifico distretto muscolare. Giorgia ha un buon tono muscolare, è un soggetto allenato, sicuramente però i gluti sono più sviluppati per cui sceglieremo un programma tight per i glutei e un programma Dyna per le gambe che sono meno allenate. Grazie. 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 Grazie a tutti.